Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e questo è Pazzi per il Cinema. Bentornati o benvenuti, a seconda se è la vostra prima volta che capitate qui, oggi continuiamo a parlare di The Last of Us, della serie tv adattata per HBO. Andiamo a parlare, in questo caso, del terzo episodio, ovvero dei capitoli di Bill's Town, Bill's Town, non so come si chiamavano, appunto, come si chiamava il capitolo di The Last of Us dedicato al personaggio di Bill. Ora, prima di parlarne, diciamo che questo video un po' più breve sarà strutturato in due parti. La prima parte parleremo dell'episodio in sé, quindi ci saranno spoiler legati all'episodio e nella seconda parte del video parleremo delle differenze con la storia originale mostrata nel gioco. Quindi, senza nulla aggiungere, iniziamo subito con la durata dell'episodio 1 ora e 15. Adesso, perché inizio con la durata? Perché inizio con un qualcosa di così tecnico per una puntata così bella? E adesso ci arriviamo. Perché dovete capire che questo è a tutti gli effetti un episodio a sé stante, nel senso che il personaggio di Bill è importante, è molto più importante nel gioco, ma ne parleremo dopo. Il fatto è che è un episodio che dura un po' più degli altri, che, vado a memoria, ma duravano, non lo so, 50 minuti o una cosa del genere. In questo caso abbiamo un vero e proprio mini film. Breve riassunto. Abbiamo Bill, che è un survivalist, o comunque sia un prepper, per capirci. O comunque qualcuno, in America ne hanno tanti di questi, che vivono... cioè che hanno il bunker, che hanno le propiste, le cose, quello che è. E quando succede il disastro che succede nel 2003, quando è che è successo che appunto i funghi hanno fatto quello che hanno fatto, nel mondo di The Last of Us, lui era pronto. E questo episodio segue i vent'anni, gli ultimi vent'anni di questo personaggio, Bill. Il nocciolo della puntata, dell'episodio, o comunque del suo sviluppo, è legato all'incontro dell'altro personaggio di nome Frank. Io non guardo quello che dicono gli altri youtuber, quello che scrivono gli altri blogger, però sicuramente qualcuno avrà tirato fuori il paragone abbastanza azzardato con Brokeback Mountain, o comunque con altre storie di amore omosessuale tra uomini portate sul grande schermo. E una cosa bella è che comunque qui parliamo di piccolo schermo, ovvero dovete capire che mentre il cinema magari ti porta a sperimentare qualcosa di... Cioè, poi stiamo parlando di televisione. Una storia del genere, che va bene, viviamo in un periodo dove tutte le tematiche LGBT le stanno spingendo sempre più forte, il fatto di vederle in televisione è una cosa bella, e soprattutto è scritta bene. Non parliamo di qualcosa di scritto male, alla Tell Me Why, amici del videoludo, se capite che cosa intendo. Parliamo di qualcosa di scritto bene. Ovviamente, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e questo personaggio nasce oltre dieci anni fa nel gioco della Stovaz. Diciamo che la barra spoiler la mettiamo lo stesso per coloro i quali non abbiano giocato il videogioco. Però, vabbè, se proprio vi volete evitare tutti gli spoiler possibili, perché qui qualche differenza c'è con il gioco, chiudete pure qua. Altrimenti, seguitemi un pochettino in questo mio ragionamento. Ora, nel gioco originale, i capitoli di Bill sono trattati in maniera diversa, nel senso, mentre qui nella serie tv abbiamo una narrazione a flashback, cioè noi sentiamo parlare di Bill e vediamo il passato di chi era Bill, noi nel gioco invece lo vediamo in prima persona, proprio noi lo incontriamo. Infatti, alla fine dell'episodio, Bill muore assieme a Frank. Nel gioco, no. Bill sopravvive, incontra Joel ed Ellie e sopravvive ed è ancora vivo quando noi lo lasciamo, Bill. Quindi abbiamo questa differenza. Ora, non mi sto assolutamente lamentando, ma io voglio sottolineare una cosa fondamentale, e cioè, mi sto accorgendo che la serie tv sta tagliando molto le parti più leggere, perché le interazioni tra Bill ed Ellie sono meravigliose, da quando si incontrano che Bill ammanetta Ellie, a quando se ne vanno che Ellie gli frega, la cassetta con le canzoni di Hank Williams e il giornaletto pornografico gay. Il fatto qual è? E' che in questa serie tv stiamo stressando molto il dramma, stiamo vedendo molto di più come questa infezione abbia colpito duramente l'umanità. Perché sto dicendo questo? Stiamo notando, amici del video ludo, come Joel stia uccidendo meno persone umane. Invece nel gioco, già a questo punto del gioco, già probabilmente lo vedremo con l'episodio 4, ma vabbè, non avanziamo, non anticipiamo nulla. Però, secondo me, stanno limitando molto le vittime umane da parte di Joel ed Ellie proprio per dare una maggior, per dare un maggior impatto a ciò che avverrà verso la fine della saga. Ed effettivamente, non trattantosi di un videogioco, quindi di una narrazione che alterna fasi narrative a fasi action narrative, abbiamo un media che è totalmente narrativo e passivo, che appunto è la serie tv, il cinema, vedetelo come volete, stanno facendo queste modifiche e quindi togliere totalmente il personaggio di Bill dall'interagire con Ellie, da una parte depotenzia, secondo me, il personaggio di Ellie, perché le dà meno spazio, ma dall'altra ci dà un più ampio respiro su quelli che sono gli effetti del virus sull'umanità. E secondo me funziona. Grazie per essere stati qui con me, io adesso dovrei spegnere qui, cominciare a montare, soprattutto ordinare la cena, perché stasera non ho voglia di cucinare, quindi io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre ore 14, qui su YouTube, su Pazzi per il Cinema. Grazie mille per essere stati qui con me e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao! 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 Ciao!